Abbiamo un signore che ha il cognome Altisonanti, infatti abbiamo, e dovete crederci, il figlio di Salvador Dalì, Giuseppe. Senta, scusi, è veramente lei? Che ci fa qui? Mi scusi la domanda. Sono in mostra alla Milano Art Gallery in via Alessi 11 per un omaggio a mio padre. L'11 maggio lui avrebbe compiuto 110 anni. E beh, insomma, e le avrebbe portati molto bene. Mi scusi, io credo anche perché il baffo è simile, ma lei ce l'ha una prova per dire che è veramente il figlio? Ho portato 40 testimoni, qui? Sì, non qui, in galleria, alla Milano Art Gallery, che sono in attesa di testimoniare che nelle mie vene, come in quelle di mio padre, sgorga colore a fiumi. Sì, sì, lei è proprio il figlio. È anche l'accento, è vero, grazie. Ma ho anche, come si suol dire, ho anche l'asso nella manica. Del babbo? No, l'asso nella manica per provare quello che dico. Mio padre ha sempre detto di essere impotente. Ah. Io mi sono fatto visitare da un medico. Sì. E ha detto che anche io sono artisticamente impotente. Anche lei è impotente? È come il maestro Bacchetti. Maestro Bacchetti! Sì, no, lei non è impotente. No. Finora non ho ancora fatto esercizi, però non credo. Dunque, lei non sa se è impotente o potente. Finora non mi sono ancora dedicato a... A quello, a quello. Ma c'è ancora quei cento anni per farcela. Va bene, ho ancora due persone da presentare.